Ragazzi, questo è l'annuncio live, un video velocissimo che stiamo per andare in live Stiamo, per le 21, ditelo a voi Per le 9, per le 21, saremo in live con Minecraft Con Minecraft, startiamo subito con Minecraft allora, ha deciso No, alle 21 con Minecraft Ma prima saremo in live con Counter Strike per parlare un po' con voi Mi sento, qualcuno che parte da qua Mi sentite, mi sentite Allora, alle 9, parlo io, parlo io, scusi, non mi disturbare Alle 9 andremo in live con Minecraft, però prima del live di Minecraft Andremo in live con Counter Strike E in più parleremo un po', parleremo un po', vedremo cosa abbiamo fatto oggi, non so Adesso il tempo di arrivare a casa, ragazzi, che sta anche piovendo E andremo in live con Minecraft Mi raccomando, spollicciate, condividete, vi aspettiamo Chiamate amici, parenti, pentole, cani, gatti, uccelli, famiglie Tutti, 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 tutti Vi aspettiamo numerosi, ragazzi Spollicciate, condividete Mettete le tendere Mettete le tende Aspettate, devo dire, non ricordo più Ah, andiamo in live con Minecraft Ma non curiosi a cavolo, andremo con la serie Con la serie La family, la family Quest, Quest Quest family Quindi mi raccomando, ragazzi, ce l'avete chiesto tanto In tanto, in tanto In italiano In italiano Vuoi parlare in italiano, Thomas? Eh Su calabrese, la smetti o no, Thomas? Eh, eh, ma non la finisca, ma non la finisca Eh, eh Davanti abbiamo una pattuglia, dobbiamo chiudere, dobbiamo chiudere Ciao, 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 ciao Ciao, 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 ciao Aspettiamo No La cintura ce l'abbiamo Ecco, vedi, qui, vedi, qui, qui, la cintura Ciao stasera, ciao Ciao, ciao, ciao Ciao